salve a tutti ragazze bentornati sul mio canale youtube torno con un nuovo video per realizzare insieme il tutorial degli orecchini tonic qualche giorno fa vi avevo mostrato nel dettaglio il progetto e gli altri abbinamenti che erano disponibili nei color skit che abbiamo proposto sul nostro sito e oggi realizzeremo insieme il tutorial vi faccio subito vedere la versione che andremo a realizzare insieme che è questa quella con i toni del burgundi del rosso del porpora del viola e dell'azzurro ed è questa è una forma molto molto particolare adesso ve la zoom un po e ve la faccio vedere da vicino ho usato un rettangolo 18 x 13 mm che ho incassonato con le mezze risale da 3 mm e poi lavorato tutto intorno con le mobi duo le super duo e cipollotti come rocaille ho usato quelle della miuki 8 0 11 0 e 15 0 il risultato è questo a me piace veramente tanto è molto molto particolare come progetto diciamo una forma un po insolita e dei 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 movimenti appunto del contrasto di perlina abbastanza particolare è un orecchino abbastanza piccolo molto molto compatto il retro è così vedete un po a cupoletta e mi piace veramente tantissimo adesso passo a mostrarvi nel dettaglio i materiali che vi serviranno per realizzare gli orecchini tonic e poi iniziamo con il tutorial allora per realizzare gli orecchini tonic vi serviranno innanzitutto dei quadrati da 18 x 13 mm io ho usato questi qui burgundi a b vedete che belli che sono ed è questo bellissimo color porpora viola con i mille riflessi blu quindi mi serviranno i quadrati per prima cosa poi i mezzi cristalli da 3 mm e ho usato questi da 3 mm color jet heavy metal dark magenta ed è questo bellissimo blu poi vi serviranno le mobiduo color chalk white baby lulastri sono quelle che ho usato in questo progetto poi vi serviranno le super duo ed ho usato le percote plum ed è questo bellissimo color porpora poi dei cipollotti 4x3 che ho usato questi qui che sono le chalk chalk purple a b e questo a me questo filo di cristalli che sono metà color bianco e nella metà sono un po screziati in questo caso grigio e con dei riflessi che vanno dal blu al viola così da riprendere un po anche i nelle sfumature dei nostri rettangoli poi vi serviranno le rocaille in questo caso ho usato sempre le 11 0 duracote galvanized dark mauve e come secondo colore le 11 0 duracote galvanized light cranberry cranberry che è questo rosso un po ciliegia che si abbina bene che fa un po da contrasto un po con tutti gli altri colori come 8 0 ho usato le duracote galvanized matte champagne che mi piace sempre soprattutto nelle 8 0 appunto la finitura matte e come 11 0 15 0 ho usato queste che sono le duracote galvanized dark cranberry come ago utilizzo sempre un ago numero 11 della tulip e come filo il mio immancabile e il fedelissimo filo miuchi color nero col quale mi trovo benissimo adesso sistema un po tutto il materiale e iniziamo con il tutorial ok la prima cosa da fare è quella di inserire sul filo la questa sequenza di perline un mezzo cristallo da 3 mm e una rocaille 11 0 del primo colore ripetuto per 12 volte poi chiudiamo a cerchio facciamo il nodino ripassiamo in qualche perlina successiva per allontanarci dal nodino tagliamo il filo in eccesso e poi proseguiamo con l'incastonatura ok adesso ci portiamo ad uscire da una rocaille 11 0 dell'incassonatura io sto scendo da questa carico sul lago 5 rocaille 11 0 e mi inserisco nella rocaille 11 che mi trovo dopo al mezzo cristallo questa e tiro il filo di nuovo carico sul lago sempre 5 rocaille 11 0 5 rocaille 11 salto in mezzo cristallo e mi inserisco nella 11 0 che mi trovo dopo così tiro il filo e proseguo con questa infilata di perline per tutto il giro ok adesso ci portiamo ad uscire dalla terza rocaille del gruppetto di 5 che abbiamo inserito 1 2 e 3 io sto scendo da questa rocaille qui carico sul lago 1 rocaille 8 0 e mi inserisco nella terza rocaille di punta del gruppetto di 5 dopo così e inizio a tirare un po il filo in modo che si vada a formare la gabbietta per inserire il rettangolo e di nuovo una rocaille 8 0 e mi inserisco sempre nella terza rocaille di punta del gruppetto dopo in questa e tiro il filo continuate con questo inserimento di perline per tutto il giro ok questa sarà la nostra gabbietta dove andremo ad inserire il nostro rettangolo prendiamo il rettangolo eccolo qua e lo inseriamo a faccia giù allora vi do qualche dritta per inserire correttamente il il rettangolo allora dovete far compasciare queste lineette queste queste righe qua questi angoli qua del del rettangolo in corrispondenza di queste due mezzi cristalli in modo da considerare come questi tre mezzi cristalli come se fossero la punta del del rettangolo quindi io prendo il mio rettangolo e cerco di far compasciare appunto all'incirca perché ovviamente non l'importante che sia il più preciso possibile all'incirca così vedete all'interno della gabbietta spero che si che si capisca metto un attimino a fuoco un pochino meglio ok vedete poi ci sono queste due rocaille qua 11 zero dell'incassonatura che andranno a posizionarsi quasi in corrispondenza di queste righe qui del del cristallo quindi una volta che avete diciamo centrato un po' l'incassonatura in modo che il rettangolo risulti abbastanza allineato iniziate a stringere il lavoro e facciamo un giro senza inserire niente ripassando nelle perline appena inserite quindi nelle 8 zero e tiriamo il il lavoro così vedete cercate di tenere ben stretto con l'altro dito il il rettangolo in modo che non si non si muova fate un giro così e poi proseguiamo con con il tutorial bene adesso ci ritroveremo così vedete anche che questa rocaille 11 zero qui centrale risulterà praticamente perpendicolare a questa linea centrale del cristallo così potete anche aiutare diciamo prendendo in considerazione questa e queste due rocaille 11 zero adesso facciamo un ulteriore giro di rinforzo dell'incassonatura dietro poi ci spostiamo su davanti per fare la decorazione per incassonare ancora meglio il nostro rettangolo ci portiamo ad uscire da una rocaille 8 zero io sto uscendo da questa carico sul lago sempre una rocaille 11 uguale a quelle dell'incassonatura e mi inserisco nella 8 zero che mi trovo dopo e tiro sempre molto bene il filo in modo che l'incassonatura si vada ulteriormente a stringere di nuovo prendo sempre una rocaille 11 e mi inserisco nella rocaille 8 zero che mi trovo dopo e tiro il filo proseguo con questo inserimento di perline per tutto il giro ok questo sarà il risultato dopo aver inserito le nostre rocaille 11 adesso vi consiglio di fare un giro senza inserire niente all'interno sul lago nel giro di questo di queste rocaille che abbiamo appena inserito per rinforzare l'incassonatura sul retro e poi ci spostiamo sul davanti vi faccio vedere come decorare il nostro rettangolo a tra poco ok adesso ci portiamo ad uscire da una rocaille 11 zero che precede uno dei mezzi ristalli che si trovano sugli angoli vedete ce ne sono uno due tre e quattro io praticamente sto uscendo da questa rocaille 11 zero qui che precede questo mezzo ristallo che sta su questo angolo carico sul lago 4 rocaille 15 zero salto il mezzo ristallo e mi inserisco nella rocaille 11 zero che mi trovo dopo nel mezzo ristallo che mi trovo dopo e fino ad uscire dalla rocaille 11 subito dopo se ci riuscite in un unico passaggio altrimenti in più di uno quindi le rocaille 15 e dovete andare a posizionare sul davanti in modo che vadino a decorare il il rettangolo quindi dovete ripassare anche nel mezzo ristallo e nella rocaille 11 zero successiva in questa tirare il filo e inserire di nuovo 4 rocaille 15 zero quindi una 4 rocaille 15 zero saltare il mezzo ristallo e inserirsi nella rocaille 11 zero che ci troviamo dopo poi se riuscite passate anche nelle due perline successive quindi nel mezzo ristallo per poi uscire allora io non ce la faccio quindi rientro in questa rocaille 11 tiro e vado a posizionare le mie 15 zero davanti al mezzo ristallo vedete in questo modo così che si vada a creare la decorazione se ci si riesce a farcele stare sì passate anche come vi ho fatto vedere prima nel mezzo ristallo dopo e nella rocaille 11 zero vedete vi ritrovate in corrispondenza del prossimo mezzo ristallo che si trova sull'altro lato vedete fate così quindi dovete fare questo inserimento di perlino un mezzo ristallo sì un mezzo ristallo no per tutto il giro ok ci ritroveremo così potrete anche lasciarlo così se vi piace non è male comunque la decorazione sul davanti io proseguo ricoprendo anche quegli altri spazzetti adesso vi dico come allora ci portiamo ad uscire da un mezzo ristallo praticamente questa è l'ultima infilata di rocaille 15 zero che ho fatto quindi mi porta ad uscire dal mezzo ristallo che mi trovo dopo quello che precede la prima infilata di perline che abbiamo fatto delle rocaille 15 uscendo da questo mezzo ristallo mi inserisco dal basso verso l'alto nella prima rocaille 15 zero che mi trovo davanti praticamente quelle facevano parte del primo gruppetto che abbiamo inserito così a questo punto metto sul lago 3 rocaille 15 3 rocaille 15 zero mi vado ad inserire dal 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 basso verso l'alto nella rocaille 15 zero che mi trovo praticamente lavorare adesso all'indietro vedete nel gruppetto che mi trovo prima praticamente è l'ultimo gruppetto che abbiamo inserito facendo così io sfrutto due rocaille 15 zero del giro di questi alti mezzi ristalli e mi facilita un po la decorazione di questo mezzo di questo di questo ristallo adesso scendo da questa rocaille 15 entro nel mezzo ristallo che mi trovo dopo solo nel mezzo ristallo e come ho fatto prima entro dal basso verso l'alto nella rocaille 15 zero che mi trovo davanti così così e tiro il filo di nuovo carico sul lago 3 rocaille 15 zero 3 rocaille 15 mi vado ad inserire sempre dal basso verso l'alto nella rocaille 15 che mi trovo prima così e tiro il filo qui di nuovo dovevo rientrare nel mezzo ristallo solo nel mezzo ristallo che mi trovo sotto questo qua ok e come ho fatto prima mi inserisco solo nella prima rocaille 15 zero e proseguo così fino a completare la decorazione del mio rettangolo eccoci qua allora l'incastonatura del rettangolo è terminata questo sarà il risultato finale e adesso ci portiamo ad uscire dalla dalla praticamente considerando la rocaille 80 che ci troviamo dietro dalla seconda rocaille sempre considerando diciamo il mezzo ristallo un mezzo cristallo che sta dagli angoli quindi ci dobbiamo portare ad uscire dalla seconda rocaille 11 zero considerando il la rocaille 80 e il filo dovrà uscire verso di noi vedete dal basso verso l'alto quindi non dovremo uscire con il filo dall'altra parte ma per per su in su spero che abbiate capito vedete io sto uscendo con il filo da questa perlina qui puntando verso di me e non verso l'esterno devo caricare sul lago questa sequenza di perline che ora vi faccio vedere allora una mobiduo sempre inserita dalla dal foro sinistro vedete da questo e tre rocaille 11 zero del secondo colore sempre quindi questo rosso dopo aver inserito queste perline io mi inserisco nell'altro foro quindi nel foro destro della mia mobiduo tiro giù tutte le perline e mi vado ad inserire nella rocaille 11 zero che mi trovo opposta da quella dove sono partita quindi mi devo inserire solo in questa rocaille qui tiro il filo e le mie perline si vanno a posizionare praticamente al di sopra di questo mezzo cristallo vedete adesso dovrò caricare sul lago una rocaille rocaille 15 zero una rocaille 15 e per che mi servirà come congiunzione per passare da questa rocaille 11 a quest'altra rocaille 11 quindi mi inserisco in questa rocaille 11 zero perché praticamente questi inserimenti di perline che dobbiamo fare dovranno essere fatti in corrispondenza di ogni mezzo cristallo sempre seguendo il fatto che ci dobbiamo portare ad uscire da queste rocaille 11 zero nella con il filo che viene verso di noi e non che va all'esterno quindi esco da questa rocaille 11 e inserisco sul lago due rocaille due scusate super duo qui di nuovo mi dovrò andare ad inserire nella rocaille 11 zero che mi trovo opposta a quella dalla quale io sto uscendo quindi da questa e tiro il filo quindi sarà una sequenza alternata tra moby duo e super duo qui di nuovo caricherò sul lago una rocaille 15 vedete che mi servirà per passare da questa rocaille 11 a quest'altra rocaille 11 per poi permettermi di ripartire inserendo la mia moby duo vedete così perché altrimenti si vedrebbe troppo il filo quindi prendo la mia moby duo l'anserisco sempre dal foro sinistro porto la mia perlina in fondo al lavoro e carico sul lago le tre rocaille 11 zero del col del secondo colore quindi nel mio caso quelle rosse 3 anche queste le porto in fondo al filo e mi vado ad inserire nel foro destro della mia moby duo quindi in questo scendo giù giù e mi dovrò andare ad inserire nella rocaille 11 zero che mi trovo praticamente opposta a quella dalla quale stavo uscendo quindi da qui sta solo nella prima non anche nella seconda così tiro il filo e la moby duo si va a posizionare così qui mi servirà di nuovo una rocaille 15 zero se riesco a prenderla una rocaille 15 che mi servirà per passare da questa rocaille 11 dalla quale sto uscendo a quest'altra rocaille 11 da questa sono arrivati carini anche in questo video sembrava strano quindi mi devo inserire in questa rocaille 11 zero qui tiro il filo e qui qui avendo inserito la moby duo andrò a inserire due super duo e mi inserisco nella rocaille 11 zero che mi trovo perpendicolare praticamente opposta a quella dalla quale stavo uscendo questa qua tiro il filo e proseguo con questa sequenza alternata di perline per tutto il giro adesso ci portiamo ad uscire dal foro inferiore della nostra moby duo io sto scendo da questa vedete carico sul lago una rocaille 11 zero dello stesso colore di quelle usate per l'incassonatura e mi vado ad inserire nei fori inferiori delle super duo e mi trovo davanti questo servirà per dare maggiore stabilità al lavoro e per coprire il filo che si vedrà poi con le su delle super duo tiro e si va a posizionare praticamente così qui di nuovo inserisco una rocaille 11 zero e mi vado ad inserire da basso verso l'alto nel foro della moby duo così passo anche nella rocaille 11 zero che mi trovo sopra tanto le devo attraversare tutte che vedete quindi ripasso in tutte e tre le rocaille 11 che mi trovo sopra la mia moby duo così e mi vado a scendere dal bar dall'alto verso il basso del foro della moby duo così tiro il filo e dovrò ripetere questo inserimento di perline per tutto il giro non abbiate paura che due si vadano a spostare sul davanti nel moby duo sul retro va bene così quindi praticamente inserirò un'altra rocaille 11 zero e mi vado ad inserire nei fori inferiori di entrambe le super duo che mi trovo davanti quindi mi inserisco qua se riuscite tutte e due insieme o se no una alla volta come preferite qua e qua andate a sistemare un po la rocaille che deve stare comunque sul davanti vedete in questo modo qui di nuovo caricate un'altra rocaille 11 e vi inserite dal basso verso l'alto nel foro della moby duo che vi trovate dopo così passate anche nella rocaille 11 se riuscite a centrarla e continuate con questo inserimento di perline per tutto il giro ok ci ritroveremo praticamente in questo punto qui e ci portiamo ad uscire dalla seconda rocaille 11 zero che ci troviamo sopra le nostre moby duo io sto uscendo da questa qui inserisco una rocaille 11 e un cipollotto 4x3 la rocaille 11 dello stesso colore e mi inserisco nel foro superiore della super duo che mi trovo davanti così tra le due super duo andrò ad inserire una rocaille 8 zero così allora cercate di tirare molto bene il filo in modo che queste perline qua si vadino un po a portare in avanti rispetto al lavoro perché ci servirà poi successivamente qui devo andare ad inserire invece un cipollotto 4x3 quindi inverso rispetto a quello inserito prima e una rocaille 11 zero sempre dello stesso colore che ho inserito qui sopra e mi inserisco nella seconda rocaille 11 zero che mi trovo sopra alla mia moby duo tiro il filo e come vi ho detto prima cercate di spostare con l'ago le rocaille che ci sono sopra alla moby duo un po sul davanti vedete in questo modo qui che ci servirà poi successivamente per fare un ulteriore giro così vedete qui di nuovo andrò ad inserire una rocaille 11 zero e un cipollotto 4x3 e mi inserisco nel foro superiore della mia super duo così tiro il filo non vi preoccupate se qui risulta tutto un casino l'importante è che riusciate a tirare in fuori questa lavorazione qui ecco in questo modo vedete in questo modo qui e qui di nuovo tra le due super duo ci andiamo ad inserire una rocaille 8 zero continuiamo con questo inserimento di perline per tutto il giro ok ci ritroveremo praticamente in questo punto vedete queste gruppette di rocaille risulteranno un po' più sporgente adesso vi faccio vedere come fare per renderla ancora più evidente questa cosa quindi ci portiamo ad uscire da una rocaille 11 zero che segue il cipollotto dove davanti abbiamo un'altra rocaille 11 quindi non passiamo in questa centrale ma ci inseriamo direttamente in quella che ci troviamo davanti e passiamo all'interno del cipollotto e delle altre perline che abbiamo dopo quindi così tiriamo il filo vedete e si andranno ad unire queste due rocaille vi faccio vedere di nuovo quindi passo anche attraverso della rocaille 8 zero nella mia super duo tirando sempre bene il filo poi passo nel mio cipollotto fino ad uscire dalla prima rocaille 11 zero da questa questa ok non passo in quella centrale no non ci sono entrata scusate che in questa rocaille 11 zero non passo in quella centrale qui di queste tre ma mi inserisco direttamente nella 11 zero che precede il cipollotto successivo così così tiro il filo e faccio sempre in modo che le perline queste tre perline risultino più più sul davanti più avanti rispetto al resto del lavoro quindi passo anche di nuovo nel cipollotto nella super duo fino ad uscire dalla successiva rocaille 11 e ripetere quello che vi ho fatto vedere ricordatevi di tirare sempre bene il filo proseguiamo così fino alla fine del giro ok ci ritroveremo praticamente in questo punto qui vedete come queste rocaille risulteranno più sporgenti rispetto al resto del lavoro vedete si troveranno così sul retro avremo questo risultato qui e adesso proseguiamo con una serie di decorazioni sul davanti e poi lungo lungo la circonferenza del nostro orecchino ci portiamo ad uscire da una rocaille 8 zero io sto scendo da questa carico sul lago 5 rocaille 15 zero e mi inserisco dall'alto verso il basso nel foro della nostra mobiduo che mi trovo praticamente subito sotto e tiro il filo così che si va a creare questo archetto di nuovo inserisco una rocaille 15 zero sul lago e mi vado ad inserire nel mezzo ristallo da 3 mm che ci troviamo sotto alla nostra mobiduo solo nel mezzo ristallo così solo nel mezzo solo nel mezzo ok nel mezzo ristallo così da andare e sfruttiamo questa rocaille qui per tappare il filo per poter tornare sopra nella nostra mobiduo quindi qui di nuovo uscendo dal mezzo ristallo inseriamo una rocaille 15 e ci inseriamo dal basso verso l'alto solo nel foro della mobiduo non anche nella rocaille 11 quindi se non riuscite spostatelo un po' con le mani ok così e tiriamo il filo vedete si andranno ad inserire qui qui di nuovo dovrò caricare 5 rocaille 15 zero 5 rocaille 15 e mi inserisco nella mia rocaille 80 così e tiro il filo praticamente mi ritroverò nello stesso punto dovrò proseguire con questa infilata di perline per tutto il giro ok ci ritroveremo con questo modulino qui e adesso facciamo l'ultimo giro e poi faremo insieme il cappietto per decorare intorno il lavoro allora ci portiamo ad uscire da un cipollotto io sto uscendo da questo carichiamo sul lago una rocaille 11 zero di un colore una 11 dell'altro e un'altra 11 zero dell'altro colore io ho inserito per prima quella dell'incassonatura poi quella rossa e di nuovo quella dell'incassonatura salto queste rocaille 11 zero che mi trovo nel mezzo e mi inserisco nel cipollotto che mi trovo dopo nel cipollotto così solo nel solo nel cipollotto in questo modo e tiro il filo si andrà a creare questo cappiettino tra invece il cipollotto e la rocaille 8 zero andrò ad inserire due rocaille 15 zero quindi carico sul lago due rocaille 15 e uscendo dal cipollotto mi inserisco nella rocaille vediamo se lavoro meglio così nella rocaille 8 zero che mi trovo davanti così di nuovo tra la rocaille 8 zero e il cipollotto dovrò inserire due rocaille 15 zero e mi inserisco nel cipollotto così solo nel cipollotto vedete si va a creare questa decorazione qui di nuovo tra i due cipollotti inseriamo le tre rocaille 11 zero con i colori alternati e uscendo da questo cipollotto ci inseriamo nel cipollotto successivo in questo si va a creare questa puntina vedete sul davanti figurera così continuiamo per tutto il lavoro ok allora il tutorial è quasi finito ci manca solo da fare il cappietto e fare un giro di rinforzo per far per sistemare queste punte che ora vi farò vedere quindi ci portiamo ad uscire dalla seconda rocaille 15 zero che precede la nostra rocaille 8 zero ovviamente nella posizione centrale quindi una di queste qua o questa o questa che ci troviamo di punta carichiamo sul lago quattro rocaille 11 zero e ci inseriamo nelle due rocaille 15 zero che ci troviamo subito dopo così tiriamo il filo e il cappietto si è andato a posizionare ora passiamo anche all'interno del cipollotto e usciamo dalla prima rocaille 11 zero del gruppetto di tre che ci troviamo praticamente davanti quindi esco dal cipollotto esco dal cipollotto e dalla prima rocaille 11 zero da questa come vi ho fatto vedere anche nell'altro tutorial per accentuare diciamo le punte dei vari archetti dobbiamo saltare quella centrale quindi uscendo da questa rocaille ci inseriamo in quella successiva e visto che ci siamo ci inseriamo anche nel mezzo cristallo ne scusate nel cipollotto che ci troviamo dopo così praticamente una volta che tirate il filo dovrete andare a posizionare il il filo al di sotto della rocaille centrale di questo gruppetto e tirando il filo vedrete che che la punta praticamente di questo di questo picot si va ad accentuare vedete così quindi fate questo giro vediamo se ce la faccio a farlo il picot si è andato ad accentuare quindi questa rocaille qui è venuta un po' più di punta rispetto alle altre fate praticamente così per tutto il giro fate qualche nodino qua e il tutorial degli orecchini tonic è terminato bene ragazzi il tutorial degli orecchini tonic è terminato questi sono gli orecchini finiti hanno una forma molto particolare a me piace veramente tanto in più sono veramente felice di essere riuscita a realizzarli utilizzando un rettangolo cerco sempre di quando riesco di utilizzare magari dei materiali nuovi diversi rispetto a quelli che di solito sempre usato in modo da cercare di riuscire a fare appunto delle nuove forme dei nuovi e delle nuove versioni quindi questa è la versione burgundy AB che abbiamo realizzato insieme vi faccio vedere anche le altre che era possibile realizzare acquistando i color skit questa era la versione grey AB sui toni del bronzo e del nero guardate che belli anche questi mentre questa era la versione crystal AB anche questa è una versione bellissima che a me piace veramente tanto molto molto particolare niente io spero che il tutorial sia stato chiaro spero che i passaggi li avete capiti bene non sono difficilissimi da fare se non qualche passaggio appunto per l'incassonatura del quadrato e per inserire le nostre mobiduo se vi va lasciatemi un commentino nell'info box fammi sapere se il video vi è piaciuto io vi aspetto al prossimo video un bacione a tutte ciao ciao ciao